Nel 2008 la FAO l'ha definita l'alimento del futuro e oggi viene studiata direttamente dalla NASA per gli astronauti. Cerchiamo di capire le qualità e le controindicazioni dell'alga spirulina. Ciao a tutti, io sono la dottoressa Carlo Tagnavi, farmacista e coach del benessere e oggi sono qui per parlarvi delle straordinarie proprietà della spirulina, perché la spirulina può essere veramente un grande aiuto nella nostra quotidianità, nella nostra integrazione e nella nostra alimentazione. È qualcosa che possiamo portarci tranquillamente in viaggio se spesso non abbiamo modo di mangiare correttamente, è un valido alleato nell'integrazione e nell'alimentazione di soggetti vegani o vegetariani perché è ricchissima in proteine e ha delle straordinarie proprietà per aumentare il nostro benessere. Ma prima di entrare nel tema, se non sei ancora iscritto al canale, fallo subito, clicca qui sotto su iscriviti e attiva le notifiche con la campanellina che trovi di fianco, così ad ogni settimana riceverai la notifica del nuovo video. Come dicevo, la spirulina è un cianobatterio, è stata impropriamente definita un'alga verde-azzurra. In realtà i cianobatteri sono dei batteri che hanno in comune con le alghe alcune caratteristiche, tra cui la possibilità di essere autotrofi, cioè crearsi energia attraverso il meccanismo della fotosintesi. Quindi sono batteri prokaryoti, quindi in assenza non hanno nucleo, però hanno la capacità di produrre energia. La spirulina non può essere vista a occhio nudo perché ovviamente come batteri sono microscopici, li possiamo vedere soltanto al microscopio, però possiamo vedere quando fanno questi agglomerati definiti blooms, quando si uniscono tutti insieme in questi laghi, in queste paludi, in queste zone lacustri dove cresce questa alga particolare. Un'alga di acqua dolce, per questo motivo contiene iodio soltanto in tracce, non ha alti quantitativi di iodio. Questo lo anticipo perché spesso chi ha patologie tiroidee chiede se si può assumere spirulina tranquillamente e io in questo caso nonostante non ci sia iodio come avviene invece nelle alghe marine, io comunque raccomando sempre di parlarne col proprio endocrinologo perché deve assolutamente sapere e dirvi la sua, quindi sarà l'endocrinologo di riferimento, il medico di base a dirvi se nella vostra situazione patologica l'integrazione di spirulina sia o meno indicata. Perché la spirulina viene considerato un superfood? Perché è ricchissima di macro e di micronutrienti. Per quanto riguarda i macronutrienti contiene sia carboidrati che proteine che grassi, ma soprattutto ha un'altissima percentuale di proteine, parliamo circa di un 60-70% del suo peso in proteine. Proteine costituite da tutti gli aminoacidi essenziali più circa una decina di aminoacidi non essenziali, quindi può essere a livello proteico essere assolutamente paragonata alla carne rossa. Questo fa sì che sia un ottimo alimento per i vegani e i vegetariani. La spirulina è anche ricchissima di moltissimi micronutrienti come ad esempio le vitamine. È ricca di vitamina A sotto forma di beta carotene che è un precursore della vitamina A, come abbiamo visto in un precedente video. Contiene vitamina E che è un potentissimo antiossidante, quindi ci protegge dai radicali liberi generati dallo stress ossidativo. È ricca di vitamine del gruppo B, le ha praticamente tutte. Attenzione perché sì, è ricca di vitamina B12, ma in realtà una forma che non è attiva per l'essere umano. Questo lo sottolineo perché spesso, soprattutto vegani e vegetariani che utilizzano la spirulina, pensano di essere protetti per la carenza di B12 utilizzando la spirulina. Bene, non è così. La vitamina B12 contenuta in questi cianobatteri potremmo definirla una pseudo vitamina B12, ovvero una forma utile ad altre specie ma non attiva biologicamente nell'essere umano. Quindi mi raccomando, attenzione chi è vegano o vegetariano integri con una forma ben assorbibile e possibilmente già attiva come la betilcobalamina la vitamina B12 perché è essenziale non solo per evitare un'anemia ma proprio per il benessere neurologico, mi raccomando. Vi rimando a un mio precedente video sulla carenza di B12 che non va assolutamente sottovalutata perché è molto pericolosa. Però come dicevo la spirulina è ricchissima di micronutrienti essenziali per il nostro benessere e questo fa sì che possa essere veramente definita un superfood che possiamo tranquillamente portarci in viaggio, in borsa, in valigia così che quando non abbiamo la possibilità di mangiare una buona quantità di cibo verde possiamo inserire la nostra spirulina. Oltre a queste vitamine è anche ricca di ferro, ne ha circa 4-5 volte il ferro contenuto negli spinaci, è ricca di calcio, di potassio, di magnesio, di fosforo, di manganese, di zinco, di rame, di selenio, cioè li ha praticamente tutti. Quindi è veramente un alimento concentrato, un dono della natura che ci permette di sopperire alle mancanze, alle carenze che purtroppo abbiamo un po' tutti a causa del cibo ahimè molto scadente che utilizziamo oggi. Oltre a tutto questo è ricca anche di acidi grassi essenziali. Gli acidi grassi essenziali soprattutto omega 3, chi mi segue sa quanto questi siano importanti, l'epa soprattutto per la situazione antinfiammatoria e l'acido di acado, cosa esanoico, per il benessere del sistema nervoso e lo sviluppo cognitivo. Quindi anche la spirulina è una buona fonte di omega 3. Oltre a questo la spirulina è molto adatta per il nostro benessere cardiovascolare. La spirulina è utilissima nell'abbassare i trigliceridi, nell'abbassare il colesterolo cattivo, l'LDL, nell'inibire l'aggregazione piastrinica, quindi rende il sangue più fluido. Questo è il motivo per cui la spirulina non può essere utilizzata in concomitanza del varfarin, della varfarina. Quindi chiunque utilizzi cumadin, varfarin, non deve utilizzare l'alga spirulina. Insieme ad altri antiaggreganti piastrinici ovviamente parlatene sempre insieme al vostro medico perché già l'alga spirulina ha questa funzione, quindi il rischio di emorragia potrebbe sussistere. Mi raccomando. Per quanto riguarda la salute del nostro cuore la spirulina si è rivelata anche un efficace antipertensivo, quindi se abbiamo una pressione che tende ad essere un po' altina ecco che la spirulina potrebbe assolutamente venirci in aiuto. La spirulina potenzia anche il nostro sistema immunitario. Chi mi conosce sa quanto io sia legata a questo tema. La spirulina è un ottimo aiutante perché? Perché attiva la prima linea di difesa del nostro sistema immunitario, ovvero il sistema immunitario innato e in modo particolare oltre ad aumentare l'intero numero di globuli bianchi circolanti attiva in modo specifico le cellule natural killer che sono quelle deputate all'eliminazione delle cellule tumorali. La spirulina è anche in grado di modulare, controllare l'iperglicemia, quindi se abbiamo una tendenza all'iperglicemia la spirulina fa per noi. è anche ottima per tutti coloro che vogliono dimagrire, perché? Perché grazie all'alto contenuto di proteine se viene assunta circa mezz'oretta prima dei pasti aumenta il senso di sazietà, quindi ci aiuta a mangiare di meno, oltre a stimolare anche il metabolismo. Questo è un po' il motivo per cui in alcuni soggetti l'alga spirulina non è così adatta perché li può rendere un pochettino più nervosi, perché aumentando il metabolismo può avere questo effetto collaterale. Altro effetto interessante è sulla rinite allergica. La spirulina è in grado di ridurre i sintomi di questo tipo di rinite, perché? Perché da un lato è ricca di omega 3, dall'altro perché è ricca di ficocianine, che sono queste molecole responsabili del colore verde-azzurro di quest'alga, che oltre a produrre clorofilla hanno un'azione antinfiammatoria e immunostimolante. Oltre a tutto questo perché? Perché noi sappiamo che la rinite allergica è anche collegata al benessere del nostro intestino e guarda un po', la spirulina è un ottimo prebiotico, ovvero facilita la crescita dei ceppi positivi del nostro microbiota, quindi riesce a riportare in uno stato di eubiosi, soprattutto se associato a dei buoni probiotici, perché attiva proprio la crescita soprattutto dei lattobacilli e dei bifidobatteri e in compenso avendo anche una proprietà antimicrobica, riesce a inibire la crescita della candida. Quindi se soffriamo di frequenti candidosi vaginali o se soffriamo di candidiasi intestinale, ecco che la spirulina diventa anche in questo caso un valido rimedio. Altro effetto benefico della spirulina è la sua protezione. Protezione dei nostri reni dai danni di alcuni farmaci, come ad esempio alcuni antibiotici o alcuni farmaci chemioterapici, e protezione dalle radiazioni. Ottimo l'utilizzo della spirulina per tutti i tecnici di radiologia, tutti coloro che sono sottoposti ad alti carichi di radiazioni. È anche in grado di stimolare l'eliminazione dei metalli pesanti. Agisce con un meccanismo un pochettino differente dall'alga chlorella, che è effettivamente un chelante. La spirulina agisce in un altro modo, però riesce a stimolare l'eliminazione dal nostro corpo di metalli pesanti tossici, che diventano drammaticamente pericolosi soprattutto per le malattie neurodegenerative, quindi Alzheimer, demenza, Parkinson. E per quanto riguarda il nostro cervello, la spirulina è in grado di potenziare la nostra salute cerebrovascolare. In uno studio effettuato su topi da laboratorio è stato visto che in caso di infarto cerebrale, sui topi a cui veniva somministrata spirulina, il danno non solo è stato ridotto, ma il recupero decisamente migliore. Ed ora arriviamo alle precauzioni dell'utilizzo della spirulina. Allora io non raccomando assolutamente l'utilizzo della spirulina né in gravidanza né in allattamento, né in caso di allergia ai crostacei. Quando soffriamo di allergia ai crostacei mai tutto ciò che alga, anche se alga di lago o di acqua dolce, quindi non rischiamo ovviamente allergia direttamente alla spirulina. E come dicevo prima, attenzione a chi soffre di tiroide, parlatene sempre col vostro medico. La spirulina può avere anche alcuni effetti collaterali, come ad esempio la comparsa di febbre o di nervosismo, questo soprattutto in soggetti sensibili alla spirulina, quando questo aumento del metabolismo può portare questi effetti. Se così fosse ovviamente significa che la spirulina non è un rimedio adatto a voi. Può portare a un aumento di gas intestinali, soprattutto se abbiamo un intestino in disbiosi, quindi per questo suo effetto prebiotico potrebbe darci qualche fastidio iniziale, così come anche la comparsa di feci più scure o tendenti al verde. Da un lato è per il grande quantitativo di clorofilla e di ficocianine che hanno questa pigmentazione, dall'altro perché stimola un importante detox dell'intero sistema e ovviamente queste tossine, questi scarti vengono eliminati anche con le feci. Altro effetto collaterale è prurito. Se avviene questo prurito dobbiamo capire se è semplicemente un effetto iniziale per questo detox, perché ricordiamoci che la pelle è uno dei nostri organi emuntori, quindi eliminiamo anche attraverso la nostra pelle, oppure se è dato da un'intolleranza specifica alla spirulina. In questo caso è meglio sospenderne l'utilizzo. Oltre a tutto questo è fondamentale cercare delle buone aziende di spirulina, perché? Perché se questa spirulina è contaminata da anatossine o microcistine, ecco che noi possiamo avere tutta una serie di effetti da contaminazione tossinica, quindi queste tossine possono causare diarrea, possono causare anche problemi importanti, quindi attenzione alle aziende che scegliamo. Per quanto riguarda la grammatura che consiglio di spirulina, ecco la spirulina può essere assunta da pochissimi grammi al giorno, uno o due, fino anche a grandi quantità. Mi raccomando, le grandi quantità non vanno bene a tutti, quindi affidatevi a chi ha competenze in questo e che vi possa seguire indicandovi la migliore integrazione per il vostro caso specifico, però se voleste iniziare, quello che vi posso consigliare è di iniziare molto gradualmente, quindi inserendo soltanto un grammo al giorno per qualche giorno, anche una settimana, e poi gradualmente aumentare, arrivare a due, anche tre grammi. Però affidatevi sempre, come dicevo, a professionisti competenti che vi possano aiutare in tutto questo. E attenzione alle interazioni farmacologiche, perché la spirulina può interferire con alcuni farmaci, in modo particolare con i farmaci immunosoppressori, quindi ad esempio il prednisone, il metotrexato, ci sono tutta una serie di molecole che hanno questo effetto immunosoppressore e serve questo per la cura di determinate patologie, soprattutto morbo di Crohn, lupus eritematoso, quindi se assumiamo farmaci prima di integrare la spirulina, così come qualsiasi alta integrazione, chiediamo al nostro medico, al nostro farmacista se questa integrazione sia o meno possibile. Dopodiché c'è ovviamente, come ho già detto prima, l'interazione con la varfarina, quindi se assumiamo anticoagulanti è meglio evitare la spirulina perché potremmo incappare in pericolose emorragie, quindi assolutamente se usiamo il Coumadin no spirulina. Ultima interazione con i farmaci antinfiammatori non steroidei, quindi cosiddetti FANS, quindi se assumiamo dei farmaci, ribadisco, chiediamo al nostro farmacista. Bene, io spero con questo video di avervi dato delle informazioni utili, interessanti sul quando, come e perché utilizzare la spirulina. Se il video vi è piaciuto mi raccomando condividetelo con le persone a cui volete bene e lasciatemi anche un like di supporto per piacere. Io vi mando un caro abbraccio, ci vediamo la prossima settimana. Ciao! 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 Ciao!